geppetto torna a casa e dà al burattino la colazione che il povero uomo aveva portato per sé il povero pinocchio che aveva sempre gli occhi fra il sonno non s'era ancora visto dei piedi che gli si erano tutti bruciati per cui appena sentì la voce di suo padre schizzò giù dallo sgabello per correre a tirare il paletto ma invece dopo due o tre traballoni cadde di picchio tutto lungo disteso sul pavimento e nel battere in terra fece lo stesso rumore che avrebbe fatto un sacco di mestoli cascato da un quinto piano aprimi intanto gridava geppetto dalla strada babbo mio non posso rispondeva il burattino piangendo e ruzzolandosi per terra perché non puoi perché mi hanno mangiato i piedi e che te l'ha mangiati il gatto disse pinocchio vedendo il gatto che con le zampine davanti si divertiva a far ballare alcuni trucioli di legno aprimi ti dico ripete geppetto se no quando vengo in casa il gatto te lo do io non posso star ritto credetelo o povero me povero me che mi toccherà camminare coi ginocchi per tutta la vita geppetto credendo che tutti questi piagnistei fossero un'altra monelleria del burattino pensò bene di farla finita e arrampicatosi su per il muro entrò in casa dalla finestra da principio voleva dire e voleva fare ma poi quando vide il suo pinocchio sdraiato in terra e rimasto senza piedi davvero allora sentì intenerirsi e preselo subito in collo si dette a baciarlo e a fargli mille carezze e mille moini e coi lucciconi che gli cascavano giù per le gote gli disse singhiozzando finocchiuccio mio com'è che ti sei bruciato i piedi non lo so babbo ma credetelo che è stata una nottata d'inferno e me ne ricorderò finché campo tonava balenava io avevo una gran fame allora il grillo parlante mi disse ti sta bene sei stato cattivo e te lo meriti io gli dissi vada grillo e lui mi disse tu sei un burattino hai la testa di legno e io gli tirai un manico di martello e lui morì ma la colpa fu sua perché io non volevo ammazzarlo prova ne sia che messi un tegamino sulla braccia accesa del caldano ma il puccino scappò fuori e disse arrivederla e tanti saluti a casa e la fame cresceva sempre motivo per cui quel vecchino col berretto da notte affacciandosi alla finestra mi disse fatti sotto e pare il cappello e io con quella catinellata d'acqua sul capo perché il chiedere un po di pane non è vergogna non è vero me ne tornai subito a casa e perché avevo sempre una gran fame messi i piedi sul caldano per asciugarmi e voi siete tornato e me li sono trovati bruciati e intanto la fame l'ho sempre i piedi non li ho più e il povero pinocchio cominciò a piangere a berciare così forte che lo sentivano da cinque chilometri lontano geppetto che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una cosa sola cioè che il burattino sentiva morirsi dalla gran fame tirò fuori di tasca tre pere e porgendoglie le disse queste tre pere erano per la mia colazione ma io te le do volentieri mangiale e buon protti faccia se volete che le mangi fatemi il piacere di sbucciarle sbucciarle replicò geppetto meravigliato non avrei mai creduto ragazzo mio che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato male in questo mondo fin da bambini bisogna avvezzarsi abboccati a saper mangiare di tutto perché non si sa mai quel che può capitare i casi sono tanti voi direte bene soggiunse pinocchio ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata le bucce non le posso soffrire e quel buon uomo di geppetto cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza sbucciò le tre pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola quando pinocchio in due bocconi ebbe mangiata la prima pera fece l'atto di buttar via il torsolo ma geppetto gli trattenne il braccio dicendogli non lo buttar via tutto in questo mondo può far comodo ma io il torsolo non lo mangio davvero gridò il burattino rivoltandosi come una vipera chi lo sa i casi son tanti ripete geppetto senza riscaldarsi fatto sta che i tre torsoli invece di essere gettati fuori dalla finestra vennero posati sull'angolo della tavola in compagnia delle bucce mangiate o per meglio divorate le tre pere pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse piagnucolando ho dell'altra fame ma io ragazzo mio non ho più nulla da darti proprio nulla nulla e ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli di pera pazienza disse pinocchio se non c'è altro mangerò una buccia e cominciò a masticare da principio storse un po la bocca ma poi una dietro l'altra spolverò in un soffio tutte le bucce e dopo le bucce anche i torsoli e quando ebbe finito di mangiare ogni cosa si batté tutto contento le mani sul corpo e disse gongolando ora sì che sto bene vedi dunque osservò geppetto che avevo ragione io quando ti dicevo che non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato caro mio non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo i casi sono tanti